A Gela, nell'ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, in collaborazione con il personale del reparto prevenzione crimine di Palermo, gli agenti del commissariato hanno arrestato il 24enne IG, queste le sue iniziali, poiché è condannato per aver commesso un furto lo scorso anno nel mese di febbraio a Gela. Il 24enne dovrà adesso scontare la pena detentiva di due mesi e 23 giorni. Sono stati invece denunciati, sempre dagli agenti del commissariato gelese, un 49enne nato in Germania ma residente a Gela, a esse le sue iniziali, e GE di 27 anni, nativo di Gela ma residente nel Nord Italia. Il primo guidava il suo ciclomotore senza patente e senza assicurazione. Oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria del 49enne, è scattato anche il fermo amministrativo e il mezzo è stato sequestrato, mentre il secondo, il 27enne, è stato segnalato, benché a seguito di un controllo su strada da parte delle forze dell'ordine, è stato beccato con un coltello a serramanico, un bastone in legno lungo 70 centimetri e 25 grammi di hashish nascosti all'interno di un borsello da uomo. Intensa attività di controllo del territorio nella settimana di ferragosto, anche per gli agenti del commissariato di polizia di Niscemi, che unitamente ai colleghi del reparto prevenzione crimini di Catania hanno denunciato presso il tribunale di Gela tre soggetti per guida senza patente, identificato 123 persone, controllato 44 veicoli, effettuato 35 posti di blocco, controllato 4 esercizi pubblici di somministrazione ed elevato 33 contravvenzioni, ed ancora sequestrato 14 veicoli, ritirato 3 carte di circolazione, effettuate 9 perquisizioni su strada ed infine controllato ben 38 soggetti con obblighi giudiziari e di polizia.